Luca Terzani e Marco Terrone presentano la pecora nera quello che gli altri non dicono amici e amiche bentornati a questa puntata della pecora nera quello che gli altri non dicono io sono Luca e prima di presentarvi il nostro ospite che ritorna noi siamo molto contenti di averlo di nuovo qui con noi lasciatemi presentare l'altra parte dei prossemica Marco ciao Marco ciao Luca un saluto a tutti gli ascoltatori e noi questa sera siamo contenti Luca perché quando ritorna un ospite è un po' come quando un amico ritorna a casa tua vuol dire che si è trovato bene vuol dire che ha apprezzato l'ospitalità che abbiamo provato a dargli e quindi salutiamo ancora una volta Franco Fracassi buonasera Franco buonasera tutti quanti ciao Franco ci eravamo lasciati nella nostra ultima chiacchierata con intanto ricordiamo il tuo libro protocollo contagio ci eravamo lasciati con una bellissima disamina nel tuo lavoro che partiva da Wuhan non erano ancora successe tante cose di oggi di cui dopo magari parleremo e da Wuhan ci avevi portato a scoprire tutta una serie di concatenazioni diciamo che portavano fino all'inizio del contagio in Italia e anche ben dopo diciamo alla parte della prima ondata ormai viene chiamata così ci ritroviamo dopo l'estate siamo dopo Natale dove c'è stata la seconda ondata e dove tutta una serie di discorsi si sono allargati tu hai diciamo delle cose nuove da dirci che potrebbero essere parte di protocollo contagio 2 diciamo che ci sono il problema contagio 2 io in realtà ci sto pensando a fare una sorta di sequel ho comunque un approfondimento insomma sul tema e la mia idea e quella su cui sto lavorando è farlo concentrarmi esclusivamente su quello che è accaduto a Wuhan infatti vorrei intitolarlo i misteri di Wuhan sembra quasi un libro di Salgari più che una cosa diciamo di un libro di inchiesta insomma si svolge nel 2020-2021 perché intorno a quel laboratorio ci sta veramente la chiave di quello che ci è successo insomma e anche forse potrebbe dare anche qualche spiegazione di quello che accadrà in futuro e in più invece c'è qualcosa da dire riguardo il fatto che noi non impariamo mai dai nostri errori sempre se di errori si tratta allora negli ultimi tempi si è parlato molto di una cosiddetta variante inglese che poi non si capisce se fosse anche una variante australiana, sudafricana eccetera 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 insomma ci sono diverse di variante comunque insomma si è parlato di questa variante inglese che pare sia molto molto più contagiosa del covid che abbiamo conosciuto fino adesso e la cosa che mi ha colpito, che è emerso è che gli inglesi fossero a conoscenza dell'esistenza di questa variante dal settembre quindi da tre mesi allora mi sembra una sorta di ripetizione di quello che è accaduto prima dello scoppio del covid ovvero e a quanto pare non solamente gli inglesi anche altri diciamo laboratori o governi sparsi per il mondo noi sapevano qualcosa allora noi siamo sei travolti da una pandemia anche perché sono sei tutti zitti non hanno detto nulla a nessuno se non dopo ah sì lo sapevamo ah sì boh forse insomma quello che sapevano e ne sapevano tantissimo non l'hanno non l'hanno fatto tesoro per fare argine al covid adesso ci sta arrivando una variante che pare sia molto più contagiosa e continuiamo a essere come cittadini ignorati da chissà e quindi magari se ci avesse avvertito per tempo se avesse avvertito le autorità per tempo forse se anche le autorità italiane l'avessero saputo per tempo forse questa variante inglese che già circola in Italia non sarebbe arrivata insomma almeno nel nostro paese quindi diciamo questa storia del covid è una sorta di ripetizione sono sempre gli stessi errori come tra la prima e la seconda ondata e così via non si fa mai tesoro di quel che accade se ci sono delle parti che continuano a ripetere gli stessi errori mi sembra quasi un po' più lecito pensare che siano voglio dire che non siano errori mi viene da pensare malo non lo so anche perché Johnson è proprio lui cioè lui era una delle persone più informate al mondo prima della pandemia perché i britannici insieme agli americani hanno condotto una delle più approfondite esercitazioni e simulazioni nel 2019 quindi diciamo che sempre gli stessi sono ricordiamoci che Boris Johnson fu il primo a dire noi non faremo nulla prepariamoci a salutare dei parenti nel senso prepariamoci ad avere delle vittime è stato bersagliato è stato voglio dire astramente contestato poi anche lui ha riveduto la sua posizione durante la prima la prima diciamo è finito in terapia intensiva esatto esatto beh viene un secondo anche da fare una riflessione anche oggi c'era su Repubblica dopo la variante inglese oggi ci sarebbe la variante italiana che deriva da quella inglese non si capisce molto bene forse ha cominciato a circolare ad agosto sembra una barzelletta perché ovviamente qui adesso cominceremo a cercare tutte le varianti possibili e immaginabili eh vabbè non si sa più diciamo che questa mi viene da fare un'osservazione forse si tengono anche queste informazioni perché sono prodromiche a tutta una serie di cose di manovre che poi vengono fatte nel tempo quindi ci danno le informazioni che servono nel momento in cui servono a portare avanti una narrazione può anche essere così questa sera ho chiamato Franco perché lui sta lavorando a una cosa che noi della Pecora Nera riteniamo molto interessante e molto importante ce ne vuoi parlare tu Franco? allora io sto concludendo perché diciamo più o meno nella seconda metà di gennaio esisterà fisicamente come libro un libro inchiesta che si intitola Quarto Reich allora io di questo tema mi sono già occupato altre volte il terzo libro diciamo in cui mi occupo dell'internazione nera non perché ne sono ossessionato ma perché essendo il primo al mondo che se ne è occupato la prima volta 26 anni fa ho idea di che cosa si tratta ho idea di quanto sia invasiva nelle nostre vite e quindi quanto lo sia stato e quanto lo sia tuttora e quindi credo che sia che non bisogna mai smettersi di occuparsi di queste cose in più ho deciso di occuparmi di questo libro anche per mettere ordine a tutta una serie di eventi che sono accaduti nel passato remoto ma anche recente che apparentemente sono totalmente slegati tra di loro che invece hanno una loro non so come dire una loro narrazione unitare si possono legare in qualche modo a un unico grande fiume che scorre come se fossero degli affluenti che confluiscono in questo grande fiume allora diciamo nel mondo negli ultimi 75 anni cioè dal secondo mondiale a oggi ci sono stati stragi terroristiche ci siamo azioni terroristiche ci sono stati guerre ci sono stati colpi di stato ci sono state dittature ci sono stati movimenti economici che hanno fatto compiuto una sorta di rivoluzione come il neoliberismo che si sono sostanzialmente impossessati nel potere e hanno trasformato la nostra società insomma ci sono state tante cose molto diverse tra di loro non tutte ma quasi tutte queste cose che vi ho elencato hanno un comprimario che non è il protagonista ma a volte si però spesso non lo è però è sicuramente presente in tutte quante questi eventi che cos'è è una organizzazione internazionale che si chiama Odessa che sta fondata nell'agosto 1944 a Strasburgo sostanzialmente dai dirigenti del quarto Reich che ha come scopo all'epoca aveva quello di traghettare il terzo Reich in un quarto Reich ovvero che cosa hanno pensato che cosa hanno detto noi abbiamo perso la guerra non dobbiamo legare gli ideali del Reich alla Germania dobbiamo slegarlo quindi organizziamoci per il doppio guerra spariamo dalla Germania spariamo dall'Europa o comunque ci restiamo in maniera clandestina organizziamo una rete e cerchiamo di far rivivere l'ideale altrove e col tempo di far sì che questo ideale raggiunga il suo obiettivo cioè controlli adesso dico un parolone diciamo controlli il mondo insomma l'idea di Hitler era quello di imporre il nazionalsocialismo in tutto quanto il mondo insomma la sua idea di civiltà ecco questa cosa hanno voluto portare fino in fondo l'hanno potuto fare grazie all'aiuto di due soggetti un soggetto politico e un soggetto economico finanziario il soggetto politico è la CIA all'epoca non esisteva c'era l'OSS però insomma quello che poi sarebbe diventata la CIA è il dipartimento di stato degli Stati Uniti d'America e quello economico è la grande una parte della grande finanza e delle grandi banche di Wall Street e delle principali multinazionali perché esisteva questo soggetto economico e aveva a che fare con con i nazisti scusate se ritorno un po' indietro apparentemente la sto prendendo un po' la larga ma voglio far capire il ragionamento allora il grande capitale americano quindi non solo le multinazionali ma anche banche finanziarie la metà degli anni venti hanno deciso che la Germania era il paese insomma ha ragione hanno deciso in questa maniera il paese che sarebbe stata la locomotiva economica d'Europa anche se aveva perso la prima guerra mondiale quindi hanno voluto trovare un soggetto in Germania che potesse rappresentare il futuro della Germania a cui loro si potevano legare per far affari troviamo qualcuno lo facciamo gli facciamo prendere il potere e poi questa persona ci rende ricchi a tutti quanti ricchi e potenti facciamo un sacco di affari con quello che sarà la potenza del futuro loro hanno individuato Hitler in Adolf Hitler questo soggetto e quindi i costoro hanno legato il proprio destino al nazismo e viceversa hanno fatto crescere il nazismo gli hanno fatto prendere il potere hanno fatto affari con il terzo Reich hanno fatto affari con il terzo Reich anche durante la guerra questa è una cosa assurda nel senso che erano perché stiamo parlando di imprese statunitensi di società statunitense quindi nemiche della Germania no? quindi loro facevano affari arricchendo coloro che poi sparavano sui loro nazionali che sbarcavano in Normandia insomma più o meno era questa in altri momenti si sarebbe trattato di altro tradimento insomma non c'è molta differenza allora questo sodalizio è proseguito si è è diventato molto stretto è finita la guerra costoro che sono riusciti a fuggire dall'Europa o a nascondersi in Europa grazie appunto all'appoggio degli Stati Uniti d'America si sono ritrovati anche non so come dire un tesoro immenso che era dovuto ai loro rapporti personali ed affari con il grande capitale quindi hanno potuto costruire una rete vastissima che potesse perseguire non è che ognuno andava per la sua strada non è che per forza i banchieri erano nazisti e i nazisti banchieri oppure capitani in industria però uno c'era un obiettivo e uno c'era un altro uno era far soldi e espandere il proprio potere economico l'altro era espandere il proprio potere politico e metterlo in pratica nel modo in cui lo sapevano mettere in pratica quindi con la violenza eccetera eccetera questi due interessi sono dati sono filati paralleli e a braccetto per tutto il dopoguerra in questi 75 anni e tant'è che il Odessa quindi questa organizzazione neonazista comunque di estrema destra che dentro neofascisti neonazisti ma anche nazisti e fascisti che venivano dalla seconda guerra mondiale Odessa ha so come dire è stata funzionale al saccheggio dell'Africa postcoloniale e anche al saccheggio dell'Africa coloniale da parte di queste grandi multinazionali è stata funzionale all'asservimento dell'intera America Latina per far sì che le grandi multinazionali americane facessero affari d'oro è stata funzionale al primo grande esperimento che c'è stato nel mondo di neoliberismo dell'ideologia del neoliberismo perché erano legati a quegli uomini a quei personaggi che sono stati diciamo la base del neoliberismo quando uno dei maggiori successi di Odessa è stato il golpe in Cile quello di Pinochet bene in Cile si è sperimentato per la prima volta il neoliberismo è stata una sorta di esperimento sulla popolazione si poteva fare perché c'era una dittatura quindi hanno esattamente sperimentato tutte le tecniche del neoliberismo mi viene Franco permettimi mi viene un collegamento visto che hai parlato di Cile e di neoliberismo mi viene in mente Milton Friedman esattamente che aveva degli stretti legami con Pinochet per esempio esattamente Friedman è stato invitato da Pinochet per fare i suoi esperimenti perché erano due soggetti molto legati a di loro nel momento in cui hanno trovato una sorta di esperimento puro dal punto di vista politico dal punto di vista della parte di Odessa questo esperimento puro aveva ovviamente dei risvolti economici per il capitale americano non solo per grandi multinazionali che sfruttavano il territorio cileno ma anche per l'idea di neoliberismo che poi si è applicato in tutto il mondo posso chiederti una cosa Franco potresti essere un pochettino più preciso quando parli di che Odessa era funzionale che ruolo svolgeva era un destabilizzatore sociale che cosa che cos'era allora Odessa sostanzialmente ha fatto compiuto colpi di stato in mezzo mondo Europa compresa noi in Italia ne sappiamo qualcosa perché in Italia abbiamo avuto credo tre colpi di stato insomma negli anni 60 anni 70 e un quarto che racconta un libro che è totalmente inedito negli anni 80 e di cui nessuno ne sapeva nulla ha compiuto stragi ovunque anche qui non in Italia abbiamo una lunga casistica di stragi compiuta Odessa stragi in tutto il mondo ha infiltrato movimenti rivoluzionari in tutto il mondo c'era una scuola del destramento dei membri di Odessa per infiltrare i movimenti rivoluzionari e sabotarli all'interno oppure far sì che diventassero funzionali al loro progetto spalli delle rivolte in molti colori? no no parlo anche di cose passate per esempio sempre tornando all'Italia nella nostra storia noi abbiamo avuto un estremismo di sinistra allora questo è uscito a tanta documentazione tanta documentazione ci sono anche le testimonianze e io lo racconto anche attraverso delle interviste fatte ai loro membri che si sono infiltrati negli anni 60 iniziali anni 70 Odessa si è infiltrata in tutti i movimenti dell'estrema sinistra in alcuni casi ne ha creato addirittura qualcuno lo scopo qual era? lo scopo era quello di impedire al Partito Comunista di andare al governo e di stabilizzare perché doveva funzionare quel mondo lì erano sostanzialmente al soldo della CIA adesso sto molto semplificando e quindi agli americani questo conveniva ma loro hanno hanno organizzato gli squadroni della morte che hanno imperversato in tutta l'America Latina e non solo anche in Africa e anche in parte in Europa in Spagna tanto per dirne una ma e in Belgio Gladio Gladio è una loro creatura e Gladio ha riguardato tutta quanta l'Europa e non solo l'Europa allora io potrei continuare però per farvi capire quanto questa organizzazione sia stata invasiva nelle vite di tutti quanti noi abbia modellato la nostra storia ma a dispetto di quel che si pensa ha diciamo sorpassato ha superato indenne il crollo del muro di Berlino alla fine della guerra fredda e ha continuato tranquillamente a esistere e a operare perché era qualcosa che non era strettamente legata al mondo est-ovest era qualcosa a quel punto che si era legata a un gruppo di potere che è quello che ha espresso il neoliberismo e che ha continuato a esistere allora io racconto di due cose diciamo più vicine a noi in realtà anche di più racconto più cose più vicine a noi nel tempo però vi faccio due esempi due esempi che possono chiarire molto di che cosa sto parlando il primo l'11 settembre allora l'11 settembre è qualcosa che ha molto a che fare con gli islamici e un po' meno con i nazisti diciamo non è roba loro però l'11 settembre io sull'11 settembre credo di essere forse la persona che ha indagato di più al mondo su questa cosa quindi ne parla ragionveduta quello che dico è basato supportato da prove c'è proprio le prove documentali allora l'11 settembre è stato una sorta di colpo di stato a livello mondiale insomma è stato un acceleratore anche questo del tempo io all'epoca vi parlavi dell'acceleratore del tempo perché era stato il covid all'epoca è stato un acceleratore per favorire il non so come dire l'avanzata del neoliberismo in tutto il mondo allora tutti gli attentati qualsiasi attentato hanno un costo costano un attentato l'11 settembre che è molto complesso è stato molto 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 costoso allora nell'inchiesta ho fatto un film sopra insomma e anche un libro ho raccontato di come di questa filiera del denaro cioè tutti i vari passaggi che hanno portato da chi ha tirato fuori i soldi a chi a tutti i vari poi le persone sul campo che hanno ricevuto i soldi per spenderli per organizzare per fare eccetera eccetera in tutto questo c'è un intermediario perché i soldi passano attraverso le banche allora la banca che ha gestito quei soldi è la banca di Odessa il banchiere di riferimento di Odessa che è un tizio un certo Ahmed Huber cittadino svizzero io sono stato a casa sua e allora questo Huber ha questa caratteristica tu entravi dentro adesso è morto però entravi dentro la sua casa lui apriva la porta e vedevi due giganteschi ritratti dipinti il primo era il ritratto di Osama Bin Laden e il secondo era il ritratto di Adolf Hitler lui si era era lui era un nazista cioè questo questo Svizzero era un nazista che era si era convinto che Hitler fosse musulmano si fosse convertito all'Islam e quindi lui pure si convertì all'Islam lo so nel mondo è veramente strano insomma ci sono questi personaggi allora Costui era un banchiere era l'allievo del principale banchiere di Odessa che lo so fino allora che era sempre uno svizzero che si chiama Genoux questo Huber diventa l'allievo di questo Genoux che gli passa tutte quante le consegne sostanzialmente e lui gestiva una banca e questa banca era la banca che ufficialmente gestiva tutti quante le transazioni che finanziavano stragi qualsiasi cosa i soldi dell'11 settembre passano attraverso di lui è lui che distribuisce soldi poi a chi ha compiuto l'11 settembre allora questo è un esempio un altro esempio molto più recente io ne parlo addirittura in due capitoli è quello di quanto accaduto in Ucraina nel 2013 2014 e anche più in là 2015 e così via in Ucraina dove c'è stato un golpe io non c'è un colpe militare c'è stato non altro che rivoluzione c'è stato un vero e proprio colpe militare in quel periodo e ricostruisco nei dettagli da dove è partito tutti chi l'ha fatto come perché come sono stato organizzato eccetera 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 con testimonianze esclusive ed è stato la più mirabile operazione che abbia mai fatto adesso stiamo parlando di un paese europeo di un paese europeo dove apparentemente democratico per cui l'Italia ha fatto un embargo alla Russia che ci costa alcuni miliardi l'anno di danni alla nostra economia e un paese europeo che ha portato al potere grazie a questo colpe una sorta di governo seminazista non saprei come definirlo c'erano quattro ministri quando nel 2014 entrò insomma entrò in funzione il nuovo governo ucraino quattro dei ministri di quel governo erano dichiaratamente nazisti lo dicevano loro se ne vantavano uno di questi era un ex l'ex capo di un nemmeno partito perché una formazione ex parlamentare che aveva proprio delle squadracce che giravano e uccidevano le persone in giro se fosse stato in Sud America avrebbero chiamati squadroni della morte uno di questi è diventato ministro dell'interno allora io ne parlo in due capitoli perché in uno racconto davanti all'inchiesta l'altro il capitolo d'apertura in cui sostanzialmente racconto la mia vicenda lo so che è strano raccontare una propria vicenda quando si scrive un libro ma io nel 2015 perché mi occupai molto di questa vicenda schissi molto sull'Ucraina e veni invitato ufficialmente al sindaco di Odessa nel 2015 per celebrare il primo anniversario della strage di Odessa perché Odessa nel 2014 nel 2014 nel 2014 ci fu la più sanguinosa strage in Europa compiuta in Europa dalla seconda guerra mondiale ad oggi se si esclude quella di Srebrenica insomma diciamo la seconda più sanguinosa dopo Srebrenica alcune centinaia di morti non si è mai saputo esattamente il numero dei morti delle persone che morirono dentro la casa dei sindacati di Odessa uccise prima torturate poi le donne stuprate e poi arse vive dentro un palazzo alcune centinaia di persone questa strage fu compiuta dalla polizia di Odessa ufficialmente c'erano i poliziotti indivisa dalla polizia di Odessa dalla criminalità locale e dalle squadre neonaziste io ricostruì la cosa feci una lunga inchiesta su questo episodio il sindaco di Odessa mi invitò l'anno successivo per parlare alla popolazione alla celebrazione di questo scelse me come giornalista in giro quel mondo per poter parlare di questo perché secondo lui ero quello che aveva raccontato meglio questa vicenda io atterrei a Odessa e veni arrestato appena mi si piede no scusi non a Odessa a Kiev perché il volo faceva Roma a Kiev e poi dovevo cambiare per andare a Odessa appena mi si piedi a Kiev veni arrestato e la motivazione era far ridere la motivazione il mio reato era essere nemico del popolo ucraino allora un reato diciamo che se me avessero contestato in Corea del Nord sarebbe andato bene perché insomma è il tipico reato della Corea del Nord insomma essere nemico del popolo oppure dell'ex Germania Est non saprei insomma cose di questo genere ma in un paese europeo nel 2015 questa cosa fa da una parte far ridere dall'altra è molto inquietante vabbè io racconto tutta la vicenda eccetera eccetera però questo dà l'idea di quello che era l'Ucraina allora l'ambasciatore mi parlò l'ambasciatore italiano voi sapete quanto sono paludati gli ambasciatori non dicono mai nulla tutto sempre tranquillo moderno su ogni cosa l'ambasciatore mi disse chiaramente dice mi disse lei sa che cos'è vuole sapere in due parole che cos'è l'Ucraina oggi 2015 ecco pensi al Cile di Pinochet l'Ucraina oggi è il Cile di Pinochet questo l'ambasciatore italiano era la sua semplificazione di quello che era l'Ucraina in quel momento lì tanto per diciamo fare qualche esempio lui mi disse solo in questa settimana cioè la settimana che mi arrestarono sono stati uccisi due giornalisti e un terzo è sparito che due di questi non erano manco ucraini erano giornalisti stranieri spariscono in continuazione le persone ci sono desaparecidos spariscono in continuazione vengono uccisi oppositori per strada eccetera eccetera senza problemi non viene mai trovato nessun colpevole e ci sono queste squadracce della morte neonaziste che girano essendo legate al potere fanno quello che gli pare la polizia di giro all'altra parte e queste fanno quello che vuole allora io tant'è che io racconto diciamo chiudo il libro con la storia la testimonianza di una ricercatrice dell'università di Kiev che racconta la sparizione di una sua collega che è sparita così letteralmente sparita semplicemente perché questa qui diciamo non era allineata con il governo mettiamola così insomma racconto la storia di questa persona noi stiamo parlando di questo cioè stiamo parlando di qualcosa che che dovrebbe toccarci perché è qualcosa che è nel presente non è nel passato io ho una collega che mi aiuta che mi con cui lavoriamo spesso insieme eccetera eccetera e poi quando scrivo un libro mi fa la correzione delle bozze tra le varie cose mi da dei suggerimenti e io mi ricordo che cioè questo un paio di settimane fa ha finito di leggere il libro e a un certo punto mi mi scrive la mattina molto presto su whatsapp dicendo chiamami io l'ho chiamata e lei mi ha detto dice io non ho dormito tutta la notte dico perché che è successo perché ho letto l'ultimo capitolo cioè quello sull'Ucraina e non mi ha fatto dormire perché mi sono reso conto leggendo quel capitolo e alla fine durante il libro che quello che è successo lì potrebbe accadere anche a noi cioè potrebbe accadere ovunque e beh come hai diciamo anticipato tu queste ideologie sembrano non essere non essere morto come hai scritto tu stesso nell'introduzione al tuo lavoro perché mi sembra che tu online abbia proprio letto il primo capitolo di quello che sarà il tuo libro dove parli proprio del tuo arresto a Kiev e leggo testualmente il nazismo non è morto con la morte di Hitler e la fine della seconda guerra mondiale neppure il fascismo con la morte di Mussolini le idee quelle idee sono sopravvissute al cambio di secolo e una considerazione che mi viene da fare è riportando tutto ai giorni nostri in Italia perché mi piacerebbe anche un tuo commento sulla nostra realtà attuale nel 2019 Scurati vince il premio strega il più importante premio letterario italiano con M il figlio del secolo Vespa quest'anno a Natale poco tempo prima di Natale esce e vende devo dire molto con il suo libro perché l'Italia amò Mussolini questo secondo me correggimi se sbaglio voglio sapere la tua non è soltanto come si dice memoria non è soltanto malinconia di qualche anziano secondo me è un'ideologia che cova ancora sotto la cenere si esattamente è un'ideologia che cova sotto la cenere no allora io la definire una cosa differente perché messa così un'ideologia che cova sotto la cenere è qualcosa che riguarda il passato mentre invece no come vi ho spiegato il neoliberismo ha molto a che fare con questa con questa organizzazione con questi con queste persone ha molto a che fare e il neoliberismo è la nostra e l'ideologia è imparante in questo momento in tutto l'Occidente l'Europa è il forse l'esperimento massimo del neoliberismo attraverso il trattato di Maastricht eccetera eccetera quindi quindi non è qualcosa che riguarda il passato noi in Europa abbiamo due governi io ne parlo anche di come sono del retroscena di questi personaggi non quello che appare che sembra una macchietta uno parlo del governo ungherese Viktor Orban e l'altro di quello polacco ma parlo anche di altre cose che accadono oggi in Europa quindi non solo quelle però per farvi due esempi allora questi due governi hanno imposto a noi all'Italia dei cambi per esempio nel recovery plan perché perché adesso non in passato questi governi sono quelli che impediscono di europeizzare la gestione della migrazione di toglierla diciamo esclusivamente alla gestione italiana ma di farla diventare una cosa europea quindi non stiamo parlando di qualcosa che appartiene non è una cosa sepolta che sta sotto la cenere è una cosa che esiste e il governo polacco è figlio di Odessa il governo ungherese è figlio di Odessa in Grecia Alba Dorata è raggiunto il 20% in Parlamento in Germania l'ARD sta in alcuni Landers sta oltre il 30% per non parlare della Svezia della Norvegia c'è un paese un altro paese europeo fa parte dell'Unione Europea l'Estonia ma anche la Rettonia hanno delle leggi che io non mi vergogno di definire razziste perché per esempio in Estonia quasi oltre il 40% della popolazione estone è di nazionalità russa perché prima faceva parte dell'Unione Sovietica quindi diciamo quasi la metà della popolazione è di origine russa cioè in senso parlava prima parlavano tutti russo però insomma diciamo che tra di loro in famiglia continuano a parlare russo e non estone queste persone non hanno passaporto stiamo parlando di un paese europeo cittadini di un paese europeo non votano queste persone non hanno diritto di voto allora non è qualcosa che appartiene al passato è qualcosa che sta dentro la nostra società è qualcosa che che favorisce il dilagare del neoliberismo ovunque che quando serve quando serve entra in azione in maniera anche violenta nei paesi del terzo mondo per favorire l'entrata delle grandi multinazionali e dello sfruttamento di quei paesi stiamo parlando dell'Africa stiamo parlando dell'estremo oriente stiamo parlando dell'America Latina il Brasile di Bolsonaro stiamo parlando di cose che non appartengono al nostro passato in Honduras è una cosa recente appartiene 3-4 anni fa quello che accadde in Honduras in Ecuador cioè il mondo è ancora pregno di queste cose qui ovviamente Odessa non può essere non si può pensare a Odessa come a un gruppo di vecchietti nazisti che sopravvissuti alla guerra perché non è più questo anche perché la maggior parte di loro se non tutti sono morti ecco in questi 75 anni si è evoluta si è adattata si è trasformata Franco senti una cosa io mi volevo riallacciare proprio a questa cosa di Odessa perché in questi giorni su internet e anche un po' sulla stampa non molto in Italia però diciamo nel mondo si sta facendo avanti questo concetto lo chiamano il grande reset big reset è uscita fuori legato ovviamente al World Economic Forum di Davos e queste cose che tu dici mi risultano le stesse che vengono raccontate lì magari in forma diversa però Klaus Schwab che è il presidente del Forum di Davos è direttamente un figlio della Germania di Adolf Hitler due del 1938 e porta avanti un'ideologia fascista lui stesso dice le stesse parole che la sua è una visione tecnocratica fascista e anche una parte transumanista insomma però questa cosa questi ideali si basano sul fascismo e guarda caso come raccontavi tu tra tutti quanti le aziende che poi sono quelle che si riuniscono al Forum di Davos ci sono tutte le solite multinazionali da Vanguard a Black Rocks a tutte le grandi banche d'affari che sono le stesse che poi ritroviamo in tutti i discorsi globali da Wuhan a tutto quanto quello che adesso riguarda questo grosso cambiamento quindi questo discorso di Odessa in qualche modo si può andare a incastrare anche in quell'ottica lì? Sì allora io come ho detto prima non è che tutto la stessa cosa non vorrei chiarire non si sta parlando di un unico grande mappazzone in cui c'è dentro tutto ovviamente ognuno ha il suo ruolo ognuno va per la sua strada ognuno ha i propri obiettivi però in molti casi questi obiettivi coincidono e in molti casi si tratta anche di soci soci in affari e quindi semplicemente non solo coincidono ma hanno esiste questa sorta di univocità nella direzione che si prende allora io non lo so se Schwab sia un membro di Odessa io non conosco la lista dei membri altrimenti sarei andato da qualche magistrato insomma però o non saresti qui a parlare con noi esattamente però una cosa la posso dire perché l'esistenza di Odessa è stata certificata da un tribunale perché io ho quando scrissi il primo libro sull'internazione nera su Odessa veni denunciato da Erich Pripke Pripke l'ex defunto oramai boia delle forze eredatine insomma è stato condannato per il gastro è stato un processo in Italia insomma è stato condannato per il gastro per ciò che ha fatto io veni denunciato da lui perché lui mi ovviamente per diffamazione lui mi accusava sosteneva che non era vero non fosse vero non tanto quello che ha fatto durante la seconda guerra mondiale perché c'era poco da ma io lo accusavo di essere il tesoriere di Odessa non il banchiere il tesoriere che è un'altra cosa cioè lui dall'Argentina gestiva questi soldi e li indirizzava stabiliva dove dovevano andare i finanziamenti per le varie stragi eccetera eccetera fece un processo fracassi quanto prima che fa un po' ridere insomma una cosa mi è sempre di fare queste cose all'americano questo processo fu seguito da da tantissime media internazionali perché era il primo processo anche se era lui a denunciare me era il primo processo nella storia nel mondo in cui un nazista veniva giudicato nel caso per quello che aveva fatto dopo la seconda guerra mondiale non per quello che aveva fatto durante tutti i nazisti sono stati giudicati per ciò che avevano fatto durante questo invece apriva un capitolo totalmente nuovo non si trattava di persone in pensione di persone inoffensive ma persone che avevano continuato a fare quello che avevano che sapono fare allora io vinsi in primo grado vinsi in secondo grado e vinsi in cassazione quindi posso affermare senza poter essere smentita perché c'è una sentenza del tribunale italiano che Pripke era il tesoriere di Odessa e che i nazisti hanno continuato a fare quello che hanno fatto che Odessa esiste vedi Franco abbiamo parlato Luca ha introdotto questo discorso del Big Reset adesso faccio una considerazione non tanto per tirarti proprio dalla giacca dentro questo argomento però è una considerazione che mi è venuta un po' diciamo sentendoti parlare anche dell'11 settembre mettendolo nella mia testa in relazione con il Covid perché abbiamo introdotto il neoliberismo abbiamo parlato di neoliberismo e una delle diciamo dei comandamenti del neoliberismo è quello che è una crisi reale o percepita attenzione è quella cosa che fa un po' da catalizzatore ovvero rende qualcosa che politicamente era impensabile lo rende necessario abbiamo visto nell'11 settembre già una limitazione delle nostre libertà individuali lo abbiamo visto negli spostamenti intercontinentali nazionali l'abbiamo visto da più parti e siamo stati tutti molto contenti devo dire che queste limitazioni però servivano alla nostra salvaguardia la nostra incolumità le abbiamo accettate in questa pandemia è successa sta succedendo la stessa cosa ovviamente che il buon senso può dirci che questo è un bene però ecco io faccio questa constatazione non so se sei d'accordo con me sembra sembra io assolutamente non voglio dire che sia qualcosa di studiato a tavolino assolutamente però metto in relazione questo dogma del neoliberalismo con quello che è successo nell'ultimo ventennio a livello globale cosa ne pensi? io penso che tu abbia ragione da vendere anche se vorrei sottolineare io penso non sono un medico quindi non ho la più pallida idea di quali siano le misure necessarie per quel che vorrei chiarire questo punto insomma non ho la più idea di quali siano le misure necessarie per proteggerci dal virus quindi mi fido più o meno di quello che mi viene detto perché non ho modo di pensarli in un altro modo dopodiché dal punto di vista pratico quello me ne rendo conto pure io che la nostra libertà viene in qualche modo limitata che noi stiamo accettando questa cosa e soprattutto noi stiamo trasferendo il nostro mondo reale in un mondo virtuale quello digitale che a differenza di quello reale a differenza di quel che si pensa è un mondo molto 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 meno libero di quello reale perché è un mondo sostanzialmente gestito da pochi monopoli che fanno quello che gli pare a loro legati in molti casi ai servizi segreti degli Stati Uniti di America però qui apriremo un altro capitolo che se no si può parlare fino a mezzanotte si può fare un'altra trasmissione se volete su questo però insomma la siamo diciamo si stiamo spostando verso un mondo meno democratico no una sorta di dittatura democratica mettiamola così che non sono non è necessariamente uno stimolo non non lo è stato in passato nella storia e non lo non lo sarà nemmeno in futuro e il quel che sta accadendo è sicuramente una ghiotta occasione per per il neoliberismo in senso lato perché ci porta ci accelera in quella direzione anche se devo dire che quel che sta accadendo sta anche aprendo molto gli occhi a tante persone anche a livello a livello di decisionale a livello di potere con le dovute differenze con ovviamente la moderazione che ne contraddistingue perfino l'Europa ha aperto gli occhi e ha detto beh ci saranno delle cose che non funzionano hanno bloccato almeno poi non si sa se sarà definitiva ma almeno temporaneamente il patto di stabilità tutta una serie di regole che ha stabilito Maastricht che erano ultraliberiste manco liberiste erano ordo liberiste perfino molte persone che fino a questo momento erano state avevano sposato la casa del neoliberismo hanno cominciato a dire beh freniamo un attimo perché mi sa che abbiamo un po' esagerato troppo in quella direzione credo anche il disastro sanitario abbia aperto fatto aprire gli occhi a tante persone quindi è sì stato cioè quel che sta accadendo è sì un acceleratore in direzione di una sorta di dittatura democratica neoliberista ma è al tempo stesso anche c'è una 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 risposta a questa accelerazione da parte da parte un rafforzamento della risposta da parte di chi si oppone al neoliberismo insomma quindi io non do per scontato che il futuro sia quello in cui ci stanno istradando certo che il covid sta facilitando di molto il lavoro in quella direzione lì questo sì ecco permettimi di fare un chiarimento di chiarire una cosa non so se ce n'è bisogno però siccome prima ho fatto un parallelismo tra l'11 settembre e la pandemia ecco non vorrei poi che i nostri amici all'ascolto pensassero ecco Marco ha detto che la pandemia è stata fatta apposta no faccio un altro esempio quando ci fu il terremoto dell'Aquila è ovvio che un terremoto non lo puoi né prevedere né tantomeno indurre però poi ricordiamo le intercettazioni tra intercettazioni telefoniche tra i vari costruttori che godevano del fatto che da lì in avanti avrebbero fatto molti affari ecco io intendevo quello una volta che è successa una cosa sicuramente qualcun altro che ha le possibilità può tranquillamente usare un evento globale per arricchirsi e per comunque passare un messaggio o comunque cambiare un paradigma che è quello che si sta un po' verificando perfettamente d'accordo con te Franco senti una cosa ricordiamo ai nostri ascoltatori come fare a contattarti come fare ad avere i tuoi libri protocollo contagio e quarto reich allora sia protocollo contagio che quarto reich quarto reich ancora di più si possono acquistare solamente da me nel senso non c'è un'altra strada per avere quarto reich e in certo modo anche protocollo contagio bisogna scrivermi bisogna scrivere un'email alla mia email personale la mia email è francofracassi1 chiocciolagmail.com uno a numero quindi francofracassi1 chiocciolagmail.com voi mi scrivete io vi spiego tutto come fare ad avere il libro vorrei aggiungere una cosa se posso essendo io colui che spedirà fisicamente i libri agli acquirenti tutti coloro che acquisteranno il libro avranno la mia dedica quindi non sarà un semplice acquisto sarà un acquisto con dedica ovviamente quindi se mi dite guardate io acquisto questo libro però non lo voglio per me voglio regalare a questa persona mi date il nome della persona e io lo dedico a chi lo volete regalare posso confermare questa cosa perché quando ho conosciuto franco all'inizio ho conosciuto proprio grazie il protocollo contagio e quando mi sto recapitando il libro lui mi aveva messo una dedica sulla prima pagina ed è una cosa che ho particolarmente apprezzato grazie franco è un valore aggiunto è un valore aggiunto è un valore aggiunto senti l'ultima domanda di questa sera voglio un pochettino uscire fuori dagli argomenti che abbiamo fatto fino adesso e volevo sapere un po' tu che cosa pensi della situazione americana e della situazione di Trump in questo momento non è una domanda facile no nel senso come si sono messe le cose io credo che Trump stia lavorando per il futuro anche perché lui è una specie di gatto che c'ha sette vite insomma lo ammazzi da una parte e sorge da un'altra parte Trump si è reso conto che non può tirare di più la corda insomma tra una ventina di giorni Biden sarà il nuovo presidente però sta lavorando per e sta cercando anche secondo me lui di far sì che il futuro degli Stati Uniti sia in qualche modo legato a lui la Corte Suprema già lo è magari lo sarà anche il Senato quindi credo che prima di diciamo di vendersi la sconfitta di Trump bisognerà fare una serie di controprove perché non sono così sicuro sconfitta di Trump anche in senso non so come dire dell'idea che lui porta avanti al di là del personaggio stesso insomma lui forse si sarebbe aspettato un aiuto maggiore dalla Corte Suprema cosa che invece non ha avuto pensava di riuscire a sovvertire un po' sì però poi alla fine credo che negli Stati Uniti c'è anche questa cultura delle istituzioni per cui le istituzioni hanno un valore allora tu persona viene nominata a Sida Trump finisce la Corte Suprema però non è che puoi fare proprio quello che vuoi nel senso che vieni anche un po' soverchiato all'istituzione stessa che rappresenti io penso che alcuni dei giudici abbiano ragionato in questa maniera non si può andare oltre però diciamo che anche dal comportamento di Biden stesso lui non era così sicuro da quando sto letto diciamo che si è messo dietro lo sfondo presidente eletto ma poi è rimasto un secondo anche lui alla finestra per cercare di capire cosa sarebbe successo esattamente perché alla fine sempre 7 a 3 sono in Corte Suprema quindi è evidente che aveva un timore adesso Biden potrà cambiare tutto perché la Corte Suprema non ha un numero fisso di membri adesso sono 10 ma potrebbero anche essere 15 e se diventassero 15 e 5 nominati a Biden potrebbe diventare un 8 a 7 per i democratici quindi diciamo che non leggere ogni volta leggere le informazioni la politica americana bisogna farlo con gli occhi loro ed è molto più complicata rispetto a quello che si possa pensare diciamo che l'unica cosa che noi sappiamo è che sarà una pretta scacchi insomma perché il Senato è più repubblicano quindi ci sarà diciamo una mediazione dovranno per forza trovare una via di mezzo esattamente senti Franco noi ti ringraziamo per essere venuto di nuovo sul nostro canale ricordiamo a tutti quanti i nostri ascoltatori che ci possono trovare sempre sul nostro canale youtube prosemica.tv di mettere un bel mi piace di cliccare la campanellina e iscriversi al canale e niente Franco speriamo di riaverti qui con noi per fare altre chiacchierate magari con le novità che ci porterà questa questa terza quarta ondata pandemia non si sa ne abbiamo ne abbiamo di tutto e di più molto volentieri amici della pecora nera questa sera una puntata molto interessante condividete con i vostri amici sulle vostre bacheche abbiamo avuto l'onore di avere un giornalista internazionale inviato di guerra uno scrittore i suoi temi sono interessantissimi per quello che è stato detto questa sera da me e Luca per i temi trattati sappiate che la pecora nera cioè Luca e Marco non dormiranno due notti nello stesso letto cambieremo in continuazione per non essere trovati dalla CIA dall'Ucraina da Putin da personaggi vari ringraziamo Franco leggete i suoi libri andatelo a trovare sui social è molto interessante quello che dice siamo onorati di averlo avuto qua buonasera a tutti ciao a tutti ciao a tutti Luca Terzani e Marco Terrone presentano La pecora nera quello che gli altri non dicono